Salve a tutti e bentrovati. Nel video di oggi siamo dunque pronti per affrontare la logica di Ockham e vedere come i risultati a cui Guglielmo arrivò rivoluzionarono davvero il fare scienza, facendo specifico riferimento alla sua particolare concezione cosmologica e il suo presunto, a seconda dei punti di vista, atteggiamento antimetafisico. Durante il 1200 i trattati di logica di Pietro Ispano introducono un nuovo orientamento, noto come supposizionalismo, cioè data una proposizione i termini componenti la medesima in veste di soggetto o predicato rispondono di una proprietà chiamata supposizione, nel senso che suppongono per, ovvero stanno al posto di qualche altra cosa. Guglielmo ha letto ispano ma i risultati da lui raggiunti, partendo dal supposizionalismo duecentesco, sono sicuramente più originali. Guglielmo definisce infatti tre tipi di supposizioni, personali, semplici e materiali. Vediamoli brevemente. Supposizioni personali si verificano quando, all'interno di una proposizione, un termine sta al posto o suppone per il suo significato, sia esso un oggetto extramentale, dunque un oggetto reale, un concetto universale o un termine orale o scritto. Se io dico l'uomo corre, il termine uomo sta al posto preciso del suo significato, dal momento che uomo non significa altro che singoli individui concreti che corrono. Ma posso utilizzare anche concetti. Se dico la specie è universale, la supposizione è sempre personale, perché il termine specie suppone o sta al posto di un concetto della mente. Secondo tipo, supposizioni semplici. Se dico l'uomo è una specie, la proposizione non sottende più una supposizione personale, perché il termine uomo sta sicuramente al posto di un concetto mentale, ovvero specie, ma non è assunto nel suo significato, perché il significato di uomo è un altro e da Guglielmo sappiamo è un significato che si desume dai singoli individui concreti. E infine supposizioni materiali, simili alle semplici, ma in tal caso il termine suppone non per un concetto ma per un termine orale o scritto, ad esempio la parola uomo come puro segno fonetico o grafico. Un impianto di questo genere sicuramente rivela l'originalità dell'elaborazione di Guglielmo rispetto al supposizionalismo di Pietro Ispano. Laddove Ispano è ancora fortemente ancorato ad una concezione realistica degli universali, per Ockham gli universali sono pura intellezione e se ancora l'universalismo di Ispano usa la teoria della supposizione nella logica, Ockham la fa uscire dai confini meramente logici al punto tale che la proposizione diventa essa stessa criterio di veridicità o falsità di un contenuto. Ciò significa che vero o falso sono mere astrazioni. In una frase del tipo questo è un angelo, Guglielmo riconosce una proposizione vera, non perché il soggetto sia il suo predicato, ma perché il soggetto è ciò che il predicato suppone. Già Tommaso avrebbe ragionato in maniera diversa. Questo che naturalmente sta per l'uomo è la natura dell'uomo, ovvero forma e materia, corpo e anima. Ora, dato che la verità è adeguazione del soggetto conoscente all'oggetto conosciuto, per Tommaso la proposizione. Questo è un angelo, è falsa. Ma Ockham dissente perché parte da un presupposto diverso riguardo la conoscenza, e lo abbiamo visto nella precedente lezione. L'uomo conosce solo il mondo fenomenico. La natura umana chiama in causa forma e materia, ovvero il sinolo aristotelico, e forma e materia per Tommaso presuppongono nel sinolo stesso un'entità costituita da legami metafisici coestesi e covalenti, che per l'uomo non sono accessibili secondo Ockham per quanto possano esistere. Dunque la frase questo è un angelo per Guglielmo non implica un discorso sulla natura, ma semplicemente che quest'uomo di cui si parla magari avrà caratterialmente una predisposizione d'animo buona al punto tale che è vero che è un angelo, perché tolta la metafisica niente e nessuno mi impedisce di dire che quel soggetto lì è buono come un angelo. Se ancora dico Socrate è un animale, non sto dicendo che il soggetto è il predicato. In termini metafisici da Aristotele sappiamo che la sostanza non posso predicarla. Socrate è un uomo, l'animale è una bestia, ma ancora una volta, dice Guglielmo, tolta la metafisica di mezzo, il soggetto Socrate presuppone il suo predicato, perché magari Socrate quel giorno era vestito in modo più trasandato del solito, oppure Socrate potrebbe aver agito o risposto in maniera scortese quante volte anche noi diciamo di una persona che è un animale, senza voler intendere che quella persona sia un animale biologicamente inteso. Naturalmente ciò non è da poco, perché se le proposizioni concatenate formano i discorsi, anche la scienza a questo punto può basarsi su presupposti diversi. Avremo le scienze reali, i cui termini suppongono realtà extramentali o fisiche e avremo le scienze razionali, i cui termini presuppongono concetti, secondo supposizioni personali o semplici. Acceniamo brevemente anche al problema degli universali, che come abbiamo già visto la scorsa volta con Guglielmo cessano di essere essenze per diventare nude intellezioni. E vi ricordo a tal proposito la famosa frase del nome della Rosa Statta Rosa Pristina nomine, nomina nuda tenemus. Però sottolineo per correttezza che la frase non è di Ockham, ma di Bernardo di Cluny, un nominalista del XII secolo, e la ritrovate nella sua opera nota come De Contempto Mundi. Ritorniamo a Guglielmo. Le argomentazioni di Ockham contro gli universali sono le seguenti. Primo, un essere individuale o singolare non può che essere costituito da parti singolari, non potrà mai risultare come sintesi tra un elemento singolare e uno non singolare, applicando il primo principio di economia scientifica che è per Guglielmo la semplificazione, o il ben più noto rasoio di Ockham. Secondo, se l'universale avesse consistenza reale e l'individuale avesse ugualmente consistenza reale, Dio potrebbe creare l'universale senza produrre nessuno degli individui in cui l'universale è presente, da cui l'assurdo logico di poter creare l'umanità senza gli uomini. E terzo, se l'universale avesse consistenza reale come la ha l'individuale, la morte di un individuo appartenente a quella specie, ad esempio l'uomo, comporterebbe l'assurdo logico che l'universale, ovvero tutti gli uomini, morirebbero nello stesso tempo. Dunque per Guglielmo i concetti sono intellezioni o segni intenzionali che possono essere semplici, come il concetto di gatto, di nuvola, di cane o di uomo, oppure complessi come mammifero, vertebrato, rettile e così via discorrendo. Per oggi però ci fermiamo qui, la prossima volta parleremo del rapporto tra Guglielmo e la metafisica e come invece secondo Guglielmo dovrebbe essere la scienza. Grazie per l'attenzione. Arrivederci, alla prossima!